In centinaia tra i residenti non hanno voluto rinunciare all'occasione di partecipare alla festa per l'inaugurazione della fermata ferroviaria di Casanova, il nuovo quartiere di Bolzano, compreso tra Vieresia e Castelfirmiano. Una infrastruttura attesa da tempo e realizzata grazie alla collaborazione tra provincia di Bolzano e comune capoluogo. Nel primo pomeriggio il momento tanto atteso con l'arrivo ufficiale del primo convoglio che, nel tragitto Bolzano-Merano, ha fatto tappa a Casanova. Meno di un anno dal progetto all'inaugurazione. Questi i tempi per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria in uno dei quartieri più popolosi della città di Bolzano. Sono felicissima di questa opportunità oggi di poter inaugurare con tutta questa gente, particolarmente ovviamente cittadini del quartiere Casanova e di Firmeam, penso almeno che sia così. Sono molto contenta per il fatto che adesso abbiamo un'ulteriore possibilità di andare in città, di usare anche mezzi ecologici, ovviamente il treno nel senso di una mobilità sostenibile e particolarmente dare una possibilità di andare in città in pochi minuti. E questo sicuramente è una cosa molto molto buona. Ovviamente non possiamo fermarci così come gestito attualmente, però pian pianino in questo momento questa stazione è la base di un futuro sicuramente più interessante. L'importanza di una infrastruttura di questo tipo è sotto gli occhi di tutti. Una fermata ferroviaria realizzata secondo i più alti standard di qualità esistenti oggi. L'obiettivo è tanto importante quanto ambizioso. permettere alle migliaia di residenti del quartiere Casanova di raggiungere il centro città in meno di dieci minuti senza utilizzare i mezzi privati. La soddisfazione è palpabile tra coloro che vivono qui a Casanova e l'essere presenti alla cerimonia di inaugurazione è stato un modo per confermare la bontà del progetto, ricordiamo, nato meno di un anno fa ed oggi diventato realtà. Perché è un mezzo economico per arrivare più velocemente in città, perché essendoci molto traffico in orari di punta ci si impiega anche più di mezz'ora, tre quarti d'ora per arrivare in città. Questo invece è un mezzo che quanto pare con sette minuti si raggiunge il centro di Bolzano.